Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai sentito un po' di concerto? Sì, ho sentito una campana che non l'avevo mai sentito nei video. Sì, perché è stata attivata una, quindi suona per tutta la chiusura. Chiusura, sì. Però non tutte, suonano solo tre. Tre? Però per tutto il tempo della chiusura è buono. Eh, lo so. Però potevano attivarle tutte le altre due. Eh, quelle là, tipo? Perché erano... Ma quali sono, praticamente, di quelle cazze sono? Eh, quella là, dall'altro lato. Tutte due dall'altro, no? Uno dall'altro lato? Sì, sì. Quella che ha sempre suonato, poi l'altra. Allora, eh, il treno, subito lo fai, hai visto? Ah, perché sì, è bellino. No, vabbè, perché questa è la circo-missuliana è velocissima. No, no, sì. Ok. Meno male, hai visto? Un po' di concetto ci sta, però. Ah, ma sì. Se fosse tutte le sei sarebbe meglio. Eh. Ma per alzarsi ci si mette un po' di tempo. Tempo, sì, ma quello non è... Non è rilevante. No, perché quello quando entra nella stazione così fa... L'hanno messo lontano perché per sicurezza. Per sicurezza, sì. Per tornare si apre subito, invece questo qua si apre sempre tardi. Sì. Sì, guarda, guarda, arriva. Vecchi. Ti ti dimentichi qualcosa mentre... Qualcosa... Eh, che cosa... La terfielle... Eh, una locia, sì. Ma, veramente, perché sono contento che... Gli sia aggiunto un campana. Eh, e poi c'è anche contento perché... Praticamente... Eh, come se stessi vicino, Potremmo, è un po' di livello. Mmh. Eh, qua. Un muro. Vabbè, salutiamo i nostri amici. Aspetta. Ok. Adesso, praticamente, se non sarete grazie a tutti, e per la vista del video, a presto. Ok, alla prossima. Grazie. 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 Grazie.